Osservavo che di tutti i piccoli partiti del dissenso, che hanno fatto un miracolo perché hanno raccolto 60.000 firme in 20 giorni, di cui ci sono illustri candidati come per esempio Vanni, eccetera, non si dice una parola. Se tu guardi tutti i media mainstream, parlano sempre solo dei sondaggi che tra l'altro sono ampiamente gonfiati o sgonfiati a seconda, e poi di questa enorme partecipazione. Io sto vedendo le foto che stanno mandando in giro sia Italexit ma anche Marco Rizzo, eccetera, delle piazze pienissime, ma delle cose, adesso Vanni ce lo potrà dire. E allora c'è proprio, io credo che avranno delle sorprese, spero che abbiano delle sorprese. Avete visto cosa è successo in Norvegia? A forza di raccontare frottole, un partito di estrema destra ha raggiunto, sta passando oltre il 20%. Cioè diceva Vaclav Havel, non puoi andare troppo a lungo e troppo impunemente contro la verità. Così come la storia degli effetti collaterali, chi è visto fuori dal coro si sarà reso conto che finalmente c'è qualcuno che ha il coraggio di mostrare in faccia le persone che hanno avuto delle sofferenze enormi, l'ultima conferenza della Commissione Medico-Scientifica Indipendente con dei dati pazzeschi, il professor Bizzari che dice, guardate che è uno dei più famosi oncologi d'Italia e più reputati, che dice chi è vaccinato non si deve, scusate, chi è guarito non si deve proprio vaccinare. E ha usato tra l'altro una metafora stupenda, comprensibile a tutti. Dice se tu stai andando 100 all'ora in autostrada, non è che improvvisamente giri di nuovo la chiave del motorino di avviamento, fai spaccare tutto quanto, dice così equivale al vaccinare uno che è guarito e che ormai ha già tutte le sue brave difese. Allora tutte queste robe qua passano miracolosamente da qualche parte, ma per il resto silenzio. Allora si sta creando, io lo sto vedendo, io sono ancora qui a Stromboli dove ieri ho finito la seconda edizione della Sidon del Criceto, che spero che prima o poi ne riparleremo, è il mio ultimo saggetto. Sto incontrando gente che mi ferma per la strada, tutti che si sono messi a guardare Radio Radio perché mi conoscono e mi fa molto piacere. E c'è un samizdato, un comunicarsi person to person, un passaparola oramai. Ah ma dov'è che si può andare? Ah ma allora adesso mi sintonizzo anch'io, ma qui ma là. Quindi attenzione che secondo me avremo delle sorprese. Vanni, come la vedi questa? L'emergenza informativa c'è, tu la stai tastando, anche con la scusa della parcondicia, adesso gli spazi sono tutti occupati dai grandi papaveroni, ma poi anche su tutte le informazioni, informazioni mediche, le informazioni sull'ambiente, quelle politiche, insomma è un'emergenza, è l'emergenza delle emergenze, dalla quale partono tutte le altre. Vanni. Sì, io direi che noi ci siamo abituati nel tempo, oramai sempre più in maniera chiara, direi la palissiana, che esiste un'unica realtà, un'unica verità che viene rappresentata in continuazione fino a che non ti penetra nella coscienza e diventa la tua verità. Un monopensiero inculcato, diciamo a furia di ripetizione, sono vecchie tecniche psicologiche, tra l'altro che Alessandro conosce molto meglio di me. Quindi la realtà non importa quale sia o quanto tu sei in grado di decifrarla, l'importante è che venga ripetuta abbastanza volte e qualunque cosa, anche la più grande delle menzogne, diventa una verità credibile. Questo è un insegnamento tra l'altro che ci hanno lasciato i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, perché erano frasi attribuibili a Goebbels e al gente di questo tipo. Quello che è stata la modificazione del pensiero di massa, ovvero sia come puoi tu portare una società in una certa direzione, prima i nazisti e poi nella Russia comunista allo stessa maniera si era capito che soprattutto attraverso la manipolazione costante dell'informazione che viene, la Pravda per esempio, la verità viene ribadita in maniera costante e alla fine penetra nelle teste, nelle coscienze delle persone. Questo è esattamente l'opposto di quello che accade in democrazia. Lo stesso problema non ce l'abbiamo solamente noi, ce l'hanno in parte anche se un po' minore in America, ce l'hanno anche negli altri paesi, cioè i gruppi internazionali che controllano l'informazione oramai tendono a controllarla a livello globale, anche perché se lasci dei posti dove l'informazione invece è più libera, alla fine con le tecnologie disponibili oggi quell'informazione può in qualche maniera arrivare alle altre persone e rompere l'incanto della realtà che viene costruita. Questo l'abbiamo visto chiarissimamente con la storia del Covid, basta ricordarsi la storia del non vi potete curare, dovete stare a casa con la dichipirina e vigile attesa per poi scoprire due anni dopo, ormai lo sanno anche i sassi, che invece il trattamento precoce con gli antinfiammatori, non con gli antivirali da chissà quante centinaia di Euro, era in grado di risolvere un sacco di problemi. Ma questa informazione, seppur in mano a tutta una serie di persone che hanno anche provato a divulgarla, non è mai arrivata. Alla stessa maniera, io sono nato nel 72, mi ricordo che nel 72 ci fu il Watergate, che è una cosa che oramai la gente avrà dimenticato completamente, ma fu, anche guardando i film che hanno fatto dopo, ovviamente era appena nato in quell'anno, avevi la percezione per esempio di che cosa fosse il lavoro del giornalista, di qualcuno che in realtà era interessato alla verità e alla trasparenza delle cose ed indagava in maniera indipendente per riuscire a dare la notizia, lo scoop. E una volta che lo aveva e veniva questo presentato, è arrivato a far cadere un Presidente degli Stati Uniti d'America. Oggi se qualcuno facesse o provasse a fare qualcosa come il Watergate, non solo in America, ma anche da noi, probabilmente finirebbe in galera dopo poco, come un diffusore di fake news o cose di questo tipo, quindi di fatto noi stiamo vedendo una comunicazione che di democratico non ha nulla. Zero proprio, hai ragione. Quindi stupirsi, tra virgolette, del fatto per esempio che ghettizzano determinati realtà come la tua, che comunque cerca di promuovere un'informazione libera e consapevole, è altresì normale, perché in realtà è il riflesso di ciò che stiamo vivendo. Quello che è preoccupante è che la gente non comprenda che quando proprio tu hai questa monoinformazione è un sintomo che in realtà la democrazia non esiste più. Ma infatti la cosa... Quello che verrà... Prego, prego, finisci. No, no, ecco, quello che verrà lo vedremo. Io posso dirti che la cosa più bella che sto vedendo in questi giorni, al di là della stanchezza dei molti impegni, comunque è il calore della gente che in realtà comunque ha voglia di respirare, ha voglia di vedere qualche cosa di differente, ha voglia di vedere se è possibile un'alba diversa un domani. Sembra sempre impossibile, sembra sempre che oramai sia appunto tutto con il pilota automatico che bisogna fare per forza ciò che è stato deciso, non da Draghi ma da chi sta sopra Draghi che ha dato le direzioni e che le dà non solo all'Italia ma anche al resto dell'Europa se non a gran parte del mondo e che non si possa assolutamente deviare da questa direzione tracciata. Io penso invece che se abbiamo una speranza si vedrà dalla volontà delle persone di riprendersi il controllo per quanto sia possibile di ciò che sta accadendo. In una forma democratica non può che accadere con le elezioni, anche perché se non diamo nessun peso o valore a quella che è l'unica cosa che in democrazia puoi fare, ovvero sia sperare di scegliere una persona, a quel punto l'unica cosa che rimane diventa una ribellione di altro genere, ma guardate che la ribellione di altro genere è interessante da immaginare così ma evidentemente nessuno l'ha mai vista perché non si rende conto della valanga di sofferenza che comporta e di incertezza che porta con sé. Quindi io dubito che il popolo italiano abbia una consapevolezza tale da dire che abbiamo noi la soluzione dal popolo direttamente per risolvere tutto quanto il problema, perché sono tutti intersecati, è molto complesso.